salve parliamo dell'avvento e nei video precedenti ho cercato di mostrare no come il signore viene e viene oggi nella nostra vita a liberarci dal carcere e che vale la pena digli di sì farlo accoglierlo farlo entrare perché è lui che ribalta la nostra vita in meglio ci fa scoprire cose meravigliose come fa allora io ho scelto alcune frasi di sant'agostino dove descrive l'opera del signore che fa quando si presenta la nostra vita quando lo facciamo entrare sono proprio discorsi fatti in occasione della preparazione al natale uno dice così che il signore cura la nostra cecità veniti medicinali terra è venuto prendendo una terra che ha proprietà curative sapete che l'uomo è fatto di terra dio prende un po di terra soffia il suo spirito e crea l'uomo siamo fatti di terra allora la terra di cui è fatta gesù che ha preso dalla vergine maria è una terra che ci cura proprio perché su questa terra si china il verbo di dio e si fa carne per curare i nostri occhi interiori sapete che quando gesù cura il cieco nato gli mette un po di fango sugli occhi perché i nostri occhi interiori avevano bisogno di essere curati perché la nostra terra cioè la nostra condizione mortale li aveva accecati allora questo significa no che la terra ci acceca la nostra terra la nostra fragilità perché perché guardiamo le cose del mondo e rimaniamo come abbagliati dice agostino cioè il signore ha fatto il mondo pieno di cose belle allora tutti i nostri desideri di per sé sono giustificati il desiderio del bene del bello però si fermano su cose piccole e allora rimaniamo accecati viene il signore e ci mostra qualcosa di più grande e questo guarisce i nostri occhi e ci insegna a guardare la vita in maniera più vera il secondo punto ancora più bello con gesù che il verbo di dio entra nella nostra vita una dimensione nuova del tempo anzi qualcosa che supera il tempo l'eternità l'eternità entra con il signore dice il verbo di dio dice agostino è il giorno come come sole che nasce dall'alto dice la liturgia il giorno che illumina gli angeli non un giorno qualsiasi il giorno che illumina la patria verso cui andiamo cioè un giorno senza notte un giorno eterno questo giorno si è vestito di carne ed è nato dalla vergine maria cioè questa luce questo giorno eterno si è vestito di carne nascendo dalla vergine si si dà a noi lo incontriamo noi allora questo sana la nostra storia il nostro tempo sana il passato attraverso il perdono sapete quante ferite ci portiamo della nostra famiglia della nostra giovinezza magari se subito abusi violenze ingiustizie tutte ferite che ti condizionano orribilmente se entra Cristo ti sana il passato a questo potere enorme ti illumina il futuro perché eternità cioè quest'amore che tu sperimenti lo vedi non solo dentro di te oggi ma davanti a te è ancora più grande no perché si capisce che se si fa entrare Cristo inizia un rapporto che andrà crescendo e questo illumina il futuro e ti libera il presente dall'angoscia ricordate Baudelaire l'angoscia la paura perché se il Signore è con te chi sarà contro di te un altro aspetto è fondamentale la sua presenza interiore dice Sant'Agostino che il Signore che non ha trovato posto nell'albergo fa del tuo cuore dei cuori dei credenti il suo tempio va abitare lì e il segno che non trova posto nell'albergo significa che deve trovare posto nel tuo cuore sai cosa significa questo che non sarai mai più solo se veramente fai entrare Gesù Cristo questa dimensione angosciosa dell'uomo moderno individualista che si sente abbandonato solo che non riesce a stabilire rapporti veri con gli altri si rompe innanzitutto attraverso Cristo che fa sentire la sua presenza ti accompagna nelle gioie nei dolori nelle difficoltà nelle feste in tutto ti accompagna non ti abbandona mai Emanuele Dio con noi questa è la natura del Natale ti benedica il Signore e ti protegga